Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ai ai Nicolino, cosa fai? Papà giocavo. Giocavi? Ma allora non ti rendi conto dell'importanza della radio? Perché è una cosa tanto importante. Certo, è una scoperta molto importante, alla quale prima nessuno avrebbe mai creduto. Ti voglio raccontare una storia accaduta proprio al tuo papà. Devi sapere che quando la mamma e io eravamo decisi a sposarci, fui costretto ad andarmene all'estero per motivi di lavoro. Puoi figurarti il dispiacere mio e della mamma, ma dopo qualche mese... Cari amici italiani, e adesso il turno del signor... Antonio Rossi! Luisa, sono io, mi senti? Ti sento, Antonio, ti sento! Ho una grande notizia per te e voglio che tu la sappia così, dalla mia voce. Una grande notizia? Tornerò in Italia il 15 aprile e dopo un mese ci sposeremo. Oh, Tony, che meravigliosa notizia! Allora ci sposeremo il 15 maggio? Sì! Luisa, ricordi? Ti dedico la nostra canzone! E così hai potuto servirti della radio per comunicare con la tua stessa voce alla mamma alla data del matrimonio? Ma è proprio vero, papà? Certo che è vero. Tutte queste cose sono vere per filo e per segno. E ricordati, ogni scoperta della scienza è sempre una vittoria dell'uomo sulla natura, sulla fatalità. Ed una delle più recenti scoperte della scienza è la nuova cura radicale per capelli, Endotene Complex. Ieri la calvizia era una fatalità, d'ora in poi dovrà considerarsi una colpa. Perché oggi, Endotene Complex arresta la caduta dei capelli e li fa crescere sani, forti, robusti. L'azione d'urto dissolve gli strati che impediscono la nutrizione del capello. L'azione equilibrata regola l'attività ghiandolare. L'azione vitaminica aiuta la crescita dei capelli. L'azione tonificante li irrobustisce. Endotene Complex. La cura completa garantita da Ellen Curtis. Endotene Complex.